Scusate fratelli, l'avete visto il video di De Luca? Quando parlando di Lolo Brigida gli va di traverso l'acqua? A Vincenzo De Luca, va di traverso l'acqua mentre parla del ministro Lolo Brigida, questi portano pure sfiga. Allora, no, 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 è la stampa che ha tradotto sfiga, in realtà lui ha detto feccia, perché in napoletano, per dire quando porti sfortuni, si dice porta seccia. Infatti De Luca ha usato la parola seccia, alludendo al fatto che in tasca tiene un uguorna tanto. Perché De Luca, ragazzi, verrà ricordato non per i 15 mandati da governatore, che sicuramente farà, ma perché lui entrerà nelle techerai al posto di Totò, Peppino e Troisi. Perché il teatro che fa supera spesso i contenuti da lui e i nunciati. Ti ricordi di più la gag che il suo programma politico. Tra l'altro, vi avviso, se doveste incontrare De Luca, state attenti, perché lui è un combattente vero. E la lotta per la campagna la porta avanti anche col corpo a corpo, al suon di Koshiguruma, o uno Sotogari, perché lui fa Judo. E la lotta per la campagna la porta avanti anche col corpo, al suon di Koshiguruma. E la lotta per la campagna la porta avanti anche col corpo, al suon di Koshiguruma. Grazie. Grazie.